Oh, guarda chi si rivede, Don Camille. Beh, hai perso la favella? Signore, quante volte ho chiamato in questi tre anni e mai mi avete risposto. Mentre ora, ecco di nuovo la vostra voce. Dio è più vicino qui che a Roma. Don Camillo, Dio è sempre alla stessa quota. Qui ti pare più vicino perché qui sei più vicino a te stesso. Allora, non mi racconti niente dopo tanto tempo. Sapete, sono diventato un pezzo grosso. Mi hanno fatto Monsignore. Troppo poco con tutto quello che hai sofferto. Ho saputo che ti hanno bastonato ben sei volte. E che ti hanno anche ferito col fucile. Don Camillo, perché non me l'hai mai detto? Forse non l'ho detto perché non è vero. Un Monsignore che dice le bugie? Ma è mai possibile. Signore, avevo tanta voglia di rivedervi. E tanta voglia di rimetterti nei pasticci. Oh no, Gesù, no davvero. Al contrario. Cosa significa al contrario, Don Camillo? Che sono qui per evitarli. Venti d'occhio, Don Camillo. Oh, me lo... Venti d'occhio...